Tragico incidente questa mattina lungo la ferrovia che attraversa il nucleo industriale di Pozzilli. Una donna ha inavvertitamente superato le sbarre del passaggio a livello ed è stata travolta dal treno Campobasso-Roma e morta nell'abitacolo della sua utilitaria. Castrataro incontra la stampa per i primi 100 giorni di governo e annuncia la crisi rientrerà con le dimissioni da azione dell'assessora Leda Ruggero. Il surplus di costi dell'Aggiunta andrà a favore di politiche sociali. Non sarò della partita alle regionali, ha chiarito il sindaco di Sera. Coronavirus, due decessi e quattro ricoveri in malattie infettive ripabelli rivedere ma non eliminare il sistema dei colori delle regioni. Al Cardarelli di Campobasso la protesta degli infermieri tra i motivi del sit-in, la scarsa attenzione della politica nazionale e regionale sulle criticità del settore giunto allo stremo nella battaglia alla pandemia. Ufficio postale aperto a giorni alterni, protestano i cittadini di Limosano. Siamo costretti a fare la fila al freddo, la provocazione di una signora ritira i soldi e chiude il conto. E infine allo sport, il calcio di Seredi, il vasto Girardi torna in campo dopo oltre 20 giorni di stop, giallo-blu domenica a Castelfidano. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione in diretta dagli studi di Campobasso. Tante notizie nel telegiornale, lo avete sentito dai nostri titoli in apertura. C'è però la cronaca tragico incidente questa mattina lungo la ferrovia che attraversa il nucleo industriale di Pozzigli. Una donna ha inadvertitamente superato le sbarre del passaggio a livello ed è stata travolta dal treno Campobasso. Roma è morta nell'abitacolo della sua utilitaria. Sentite tutti i particolari dal servizio curato per noi da Nicola De Santis. Gravissimo incidente questa mattina in località Camerelle a Pozzigli, sui binari che attraversano il nucleo industriale. Una donna di Pozzigli di 47 anni, Lucia Fantauzzi, si stava arrecando al lavoro in un'azienda di Roccaravindola. Ha inadvertitamente superato la sbarra del passaggio a livello ed occupato i binari proprio nel momento in cui sopraggiungeva il treno Campobasso-Roma che viaggiava in direzione Venafro. L'impatto tra il treno e l'utilitaria è stato violentissimo ed inevitabile, nonostante il macchinista abbia fatto il possibile per rallentare la corsa della locomotiva. Il treno ha trascinato per oltre 20 metri la piccola utilitaria. L'urto non ha lasciato scampo alla donna, che è morta sul colpo. Nonostante l'improvvisa frenata, nessun passeggero del treno è rimasto ferito. Sul luogo dell'incidente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore prima di estrarre il corpo della vittima dalle laniere, i sanitari di Sarnia Soccorso, i carabinieri di Pozzigli e la polizia scientifica per i rilievi, oltre alla stradale. Sgomento a Pozzigli, dove Lucia Fantauzzi era conosciuta e benvoluta da tutti. Lascia il marito con due bambini di 10 e 7 anni. Nello stesso punto, 12 anni fa, in un incidente identico, perse la vita un uomo di 87 anni, a bordo di una Mercedes. Quanto accaduto questa mattina, riaccende le polemiche sul livello di sicurezza di quel passaggio a livello, già oggetto in passato, di numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Andiamo a Disernia, perché questa mattina il sindaco Piero Castrataro ha incontrato la stampa per i primi 100 giorni di governo e annuncia la crisi rientrerà con le dimissioni da azione della Ruggero, il surplus di costi della giunta andrà a favore di politiche sociali, non sarò della partita alle regionali. Questi ed altri argomenti nel prossimo servizio. C'è ancora Nicola De Santis, che ha intervistato il sindaco Disernia Castrataro. Io mi do sempre mai il massimo, perché altrimenti uno non ha lo stimolo per fare. E non è stato così, perché sicuramente alcune cose potevano essere fatte meglio, alcune cose in più potevano essere fatte. Una buona sufficienza che è lo stimolo per fare meglio. Primi 100 giorni con la fascia tricolore per il sindaco Disernia Piero Castrataro. 100 giorni vissuti intensamente, tra cose da fare e polemiche da fronteggiare. Tra le priorità del primo cittadino, gli alloggi per le persone meno abbienti. Il bando per gli alloggi comunali, abbiamo recuperato 100.000 euro che ci hanno concesso di avere ulteriori 400.000 euro dalla regione e recuperare i 7 alloggi comunali. In questi mesi mi sono reso conto come l'emergenza abitativa è reale. Tra l'altro a questi immobili si uniranno altri che si libereranno grazie al fatto che l'ACP si sta trasferendo nella nuova sede. Ci saranno altri 7 immobili, quindi nel giro di un anno ci saranno quasi 15 immobili disponibili per altre tante famiglie per alleviare anche una sofferenza che in questi mesi ho sentito perché tante persone sono venute da me a chiedere un alloggio. Poi ci sono i fondi del PNRR in arrivo, occasione irripetibile per cambiare volto alla città. C'è il bando Asili Nido e lì stiamo ipotizzando due nuove strutture di Asili Nido e stiamo colloquiando anche con chi già ha le strutture private perché poi dal 2027 al Comune saranno date le risorse anche per gestire gli asili. Poi c'è il bando Parchi e Giardini dove stiamo valutando la possibilità di intervenire su alcuni giardini della città. C'è il bando Mense anche se lì c'è un problema per cui probabilmente non viene finanziata la parte di attrezzature che era quella che ci interessava maggiormente. Ci sono alcune risorse invece che ci arrivano direttamente dalla regione. Faccio un esempio sul trasporto pubblico urbano. Ci sarà la possibilità di avere mezzi, tutti elettrici, che poi verranno dati in gestione a chi vincerà la gara del trasporto pubblico urbano. Ci sono state polemiche sulla presenza in giunta di un esponente di azione. Crisi risolta con le dimissioni imminenti della Ruggero dal partito di Calenda. La questione per me era risolta all'inizio. Giustamente c'è una questione politica che è stata posta da alcune forze che ho capito. Però diciamo ora, informalmente risolta, formalmente lo sarà a brevissimo. La giunta rimane quella che è e io ho piena fiducia negli assessori che ci sono. Non poteva mancare un riferimento alla bocciatura da parte del TAR sul ricorso presentato dal sindaco in merito all'otto zero. Allora, il TAR ha bocciato la sospensiva. Stiamo discutendo se fare ricorso al Consiglio di Stato. Stiamo facendo delle valutazioni. Io rimango della mia opinione personale, ma che chiaramente mi confronterò con il resto della maggioranza e della giunta. Non sono contrario all'opera in sé, assolutamente. sono contrario al fatto che quell'opera ha un profilo di rischio elevato per la città ed ha un costo elevato rispetto ai benefici che non sono stati sottolineati in nessun documento tecnico. Polemiche anche sul lamento dei costi della giunta. Castrataro promette di devolvere in progetti sociali il surplus delle indennità di sindaco e assessori. Io dico tranquillamente che anche in questo settore a breve tutta la giunta varerà un documento in cui diremo come una parte delle risorse, dei costi in più, così come sono stati detti, verrà destinata a dei progetti sociali. Lo faremo tramite il Comune, lo faremo anche tramite la Fondazione e credo che sia un bel messaggio per tutta la città. Castrataro conferma che non sarà della partita alle regionali. Appoggerà una civica purché sia lontana dal centro-destra e dalla civica di Patriciello. Io rimango al Comune di Sernia, sicuramente appoggerò una lista civica che credo si formerà in tutta la regione. Questa lista civica non potrà essere assolutamente composta da chi compone attualmente la maggioranza in regione, non potrà essere composta assolutamente da quel movimento civico di cui ha accennato l'europarlamentare Aldo Patriciello e sarà l'espressione della società civile e credo che anche in regione serva a questo. Lavorerò per questo ma lavorerò semplicemente da sindaco di Sernia. Pochi secondi fa è arrivata in redazione la nota dell'assessore Leda Ruggero. Vi leggo solo qualche stralzo, poi ovviamente gli approfondimenti nell'edizione di questa sera delle 19 e 30. Quando sono stata indicata come assessore, avevo legami familiari, si riferisce alla parentela con Meloia, avevo anche in tasca una tessera. Questo non ha inciso però sulla scelta del sindaco perché il mio, come ben noto, non era un incarico di natura politica, bensì tecnico. Non siedo in giunta in rappresentanza di alcun movimento se non delle mie competenze e conoscenze. Non sono un politico e non ho pertanto partecipato a Lagone appena terminata. Sono stata indicata personalmente dal primo cittadino che ringrazio per la fiducia che mi ha rinnovato affinché potessi lavorare al suo fianco per la messa a terra del suo programma elettorale. Leda Ruggero conclude dicendo il mio impegno dunque prosegue con lo stesso entusiasmo dei primi giorni e con il desiderio di poter mettere tutta me stessa nel supportare l'azione amministrativa. A fine di sgombrare il campo da equivoci ho inteso congelare la mia partecipazione attiva al partito azione fino alla durata del mio mandato amministrativo nella speranza che adesso si possa voltare pagina abbandonare rimostranze da addetti ai lavori e tornare al nostro quotidiano impegno. C'è una città da cambiare. E ora parliamo del coronavirus. L'ultimo bollettino emesso dall'azienda sanitaria regionale del Molise e due decessi e quattro ricoveri al Cardarelli. I degenti sono 44. Ancora due decessi. Non ce l'hanno fatta un uomo di 87 anni di Larino che era ricoverato in malattie infettive ed un 83enne ricoverato in anziano fragile. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale a 526. Quattro gli ingressi in malattie infettive. Pazienti di Belmonte, Del Sagno, Termuri e due di Isernia. Al Cardarelli, i degenti sono 44 di cui tre in rianimazione. 14 non vaccinati. Capitolo positivi sono 392 i casi delle ultime ore. 66 al molecolare, 326 all'antigenico. 2.781 gli esami rifertati. 1.183 molecolari con tasso di positività al 14%. 266 guariti. I molisani alle prese con il virus salgono a 9.416 mentre i soggetti in isolamento sono 4.679. La pandemia muta e le regole giocoforza devono essere cambiate. Il professore Giancarlo Ripabelli, coordinatore del CTS Molise, avanza delle proposte. Resettare il tracciamento, rivedere ma non eliminare i colori delle regioni e molta cautela sui meccanismi che regolano la quarantena e l'isolamento. Sentite. Cautela su eventuali modifiche ai meccanismi delle quarantene e degli isolamenti nelle scuole. Semplificare ma non eliminare il sistema dei colori delle regioni e resettare il tracciamento che Omicron ha fatto saltare in aria. E' la ricetta del professore Giancarlo Ripabelli per affrontare i mutamenti imposti dalla pandemia. Se da un lato oggi appare logico rivedere il cosiddetto sistema dei colori magari semplificando ulteriormente, spiega Ripabelli, dall'altro potrebbe essere pericoloso derogare completamente da meccanismi automatici che peraltro sono basati su parametri di più lenta attivazione come i ricoveri ospedalieri. E' chiaro che comunque il punto di riferimento per tali decisioni debbano essere sempre di più i tassi di copertura vaccinale, dice il coordinatore del CTS per il quale sarebbe anche opportuno considerare un vero e proprio reset del sistema di contact tracing poiché le segnalazioni accumulate sono troppe e di gran lunga antecedenti alle varie scadenze previste per i soggetti in quarantena o in isolamento. Sulla possibile revisione delle quarantene a scuola il docente aggiunge o qualche perplessità nel considerare in maniera totalmente differente i soggetti sintomatici da quelli asintomatici rispetto al rischio di trasmettere il virus. Ad oggi i dati confermati da diversi studi hanno mostrato che moltissime persone possono essere infettate dal covid e restare asintomatiche. Essere positivi e asintomatici può anche significare che si è ancora nelle fasi iniziali della malattia, cioè che si è presintomatici ma in grado comunque di trasmettere l'infezione già almeno un paio di giorni prima della comparsa dei sintomi. Quindi le persone asintomatiche, seppure con diversa probabilità, possono trasmettere la malattia. Ultima riflessione, le ipotesi sulla revisione della classificazione dei ricoveri covid. Piuttosto che semplicemente scomputare i pazienti ricoverati per altri motivi, ma poi rivelatisi positivi al tampone e concludere i pabelli, sarebbe utile ragionare su una semplificazione del sistema di valutazione del rischio delle regioni, con valutazioni più pragmatiche sui tassi di occupazione dei posti letto e sulla reale capacità delle varie regioni di gestire i pazienti positivi ricoverati per altre patologie in aree non specificamente destinate ai pazienti covid. E questa mattina al Cardarelli la protesta degli infermieri tra i motivi del sit-in, la scarsa attenzione della politica nazionale e regionale nei confronti di una categoria e delle criticità di questa categoria, una categoria sempre più in difficoltà allo stremo nella battaglia alla pandemia. Protesta seguita per noi da Andrea Vertolo. Sentite. Condizioni di lavoro inaccettabili a fronte di stipendi tra i più bassi d'Europa, queste alcune delle motivazioni che hanno portato il sindacato Narsib ad indire lo sciopero generale della categoria. Anche in Molise, come in tutta Italia, presidi di protesta e sit-in per riaffermare il ruolo dell'infermiere nel sistema sanitario pubblico, un ruolo, dicono i manifestanti, o sannato in periodo di pandemia, ma che viene puntualmente dimenticato dalla politica nazionale e locale. Oggi al Cardarelli di Campobasso la manifestazione che ha portato davanti al piazzale dell'ospedale un buon numero di lavoratori che lamentano un trattamento non equiparato ai sacrifici lavorativi a fronte anche del rischio che incombe ogni giorno sulla propria salute, contrastando la pandemia sempre in prima linea. Un anno fa su questo piazzale le forze dell'ordine, la politica, Toma, i direttori generali di questa azienda hanno applaudito agli infermieri che avevano portato fuori dalla prima pandemia il popolo italiano, in modo particolare i pazienti di questa regione Molise, perché in questa regione Molise se il virus avesse per caso fatto uno sprofonamento come è successo nell'Alta Italia, come è successo in Inghilterra e in Francia, saremmo morti tutti quanti. Abbiamo avuto i nostri morti, abbiamo avuto morti anche di infermieri per contagio, abbiamo avuto infermieri che si sono contagiati e che grazie a queste amministrazioni che si sfilano sempre dalle responsabilità non sono manco stati fatti riconoscere a questi poveri colleghi nostri la malattia professionale in Ail. Sonia Lepore, segretario provinciale Narsid di Isernia, quali sono le problematiche che voi state lamentando in questa giornata? Come segreteria di Isernia abbiamo deciso di aderire a questo sciopero e abbiamo aderito in maniera particolare. Su Isernia si sta lavorando con un segno di lutto al braccio. Questo per rispetto della cittadinanza in quanto già in questa regione è difficile assicurare quotidianamente i servizi essenziali perché c'è una carenza di personale che ormai è cronica e strutturale e naturalmente la carenza di personale si traduce in orari di lavoro prolungati per chi rimane in servizio e quindi un carico di lavoro che determina uno stress da lavoro correlato incredibile. Gli infermieri non si sono tirati indietro durante la pandemia e hanno dato tutto se stessi, però non si sono visti riconosciuti nulla dalle istituzioni né nazionali né tantomeno locali. Quindi le condizioni sono diventate veramente insostenibili. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino ha deciso per il proscioglimento perché il fatto non sussiste di cinque medici del Basso Molise accusati di truffa per l'attività di volontariato gratuita svolta durante il tempo libero. Gli operatori, di cui gran parte sono sanitari del Santimotio di Termoli, erano finiti in una indagine dei carabinieri del nucleo antisofisticazione partita da Isernia per aver prestato attività di supporto fuori dall'orario ospedaliero o di attività per le associazioni Avis e Fratres che si occupano della raccolta di sangue ed emoderivati. Nel procedimento ingartinato nel Palazzo di Giustizia Larinese, l'ASREM si è costituita parte civile con la richiesta di disarcimento o danni morali. L'ipotesi contestata ai camici bianchi era di truffa per aver indebitamente percepito l'indenità per il rapporto di esclusiva. I medici erano tutti professionisti che per affinità ideologica avevano deciso di impiegare buona parte del proprio tempo libero per svolgere attività di supporto alle associazioni impegnate nella raccolta del sangue senza, tra l'altro, chiedere ed ottenere compensi, spiega il penalista termolese Antonio De Michele, difensore degli imputati. Il processo ha avuto rilevanti implicazioni in punto di diritto. la decisione è di non luogo a procedere. Ufficio postale aperto a giorni alterni, cittadini di Limosano sul piede di guerra. Sentite tutto dal contributo. La decisione di aprire a giorni alterni risale al mese di maggio del 2020. Eravamo nella prima ondata della pandemia e Poste Italiane scelse di limitare l'accesso dell'utenza. Si entra uno alla volta, il locale è molto piccolo, e lo sportello è aperto un giorno sì e l'altro no. La scelta da allora ha generato malumori, perché l'ufficio postale di Limosano, paesino di 700 anime, è l'unico della zona ad avere servizi bancari e di credito. E serve anche l'utenza di San Biase e Sant'Angelo. Ad essere penalizzati sono soprattutto gli anziani costretti ad attendere ore in strada e al freddo. Io dalle otto e mezza sto vicino a questo ufficio di posta e sono stanca ad aspettare che mi fa male pure la schiena. Vedete un po' di fare qualcosa, se no cambiamo tutto e ritiriamo tutto. E come tanti altri, ogni volta che vengo all'ufficio postale devo fare la fila. Non è possibile che Limosano, con 700 e più abitanti, abbiamo l'apertura tre volte a settimana. Abbiamo un paesino vicino qua, Lucito, con meno abitanti di noi, 600, e l'ufficio postale è aperto tutti i giorni. Mi dispiace, ma le poste a questo punto stanno facendo proprio uno schifo. Siamo in attesa che si ritorni alla situazione di prima, perché non è possibile andare avanti con tre giorni alla settimana, considerate pure che qua vengono anche la Sant'Angelo, in cui fare una fila in piedi, per noi che la maggior parte siamo tutte persone anziane, è solamente uno scandalo. Speriamo che decidete voi delle poste a rimetterci come stavamo prima. Come ex postale non posso dire altro che uno schifo. non si vedono da anni proprio. È insopportabile. Non mi voglio proruncare perché direi cose fuori luogo. Io dalle otto e mezza sono qui a fare la fila e ancora non riesco, c'è ancora tanta folle che aspetta. È uno schifo. Ci hanno illuso dicendo che all'inizio del mese di gennaio avrebbero riaperto. Invece così non è stato. Qui oggi per fortuna è una giornata di sole, ma con la neve, con la pioggia, qui c'è sempre tanta gente che attende. È uno schifo e bisogna rimediare urgentemente. Il sindaco Angela Moroso ha più volte sollecitato poste italiane nella speranza di far riattivare il servizio, preoccupata soprattutto per le persone anziane. Molti, dice, sono costretti a restare fuori per ore e poi magari non riescono a compiere neanche l'operazione. Opera di sensibilizzazione avviata anche da alcuni cittadini, tramite l'Auser, l'Associazione per l'Invecchiamento Attivo, ma con scarsi risultati. Non è cambiato nulla e i disagi restano. Tasse agevolate all'Università del Molise per i dipendenti pubblici è l'ultima misura stabilita tramite un protocollo d'intesa. Per iscriversi c'è tempo fino al 28 febbraio. Un'ottima possibilità di accrescere la propria professionalità. Le parole del Rettore Brunese. Il servizio è di Valentina Ciarlante. Accrescere la propria professionalità, aprendo davanti a sé la strada di un avanzamento di carriera. Questa è la possibilità che viene offerta ai dipendenti della pubblica amministrazione dall'Università degli Studi del Molise, che ha stabilito per loro tariffe agevolate. Per coloro i quali si iscriveranno ai corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico, il costo da sostenere sarà di 500 euro per il contributo annuale, più 140 per la tassa regionale e 16 euro di imposta di bollo. La scadenza è tra un mese, il 28 febbraio, e sul sito Unimol è presente un form con cui gli interessati potranno richiedere ulteriori informazioni. Questa misura è il frutto di un accordo tra la funzione pubblica e l'Università, ma soprattutto è la conseguenza del PNRR che individua proprio nelle persone il motore del cambiamento e dell'innovazione. Il rettore Unimol, Luca Brunese, ha sottolineato l'importanza di un progetto formativo di questo livello. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Molise ha approvato il protocollo d'intesa proposto dal ministro Brunetta a proposito della nuova possibilità della formazione del personale della pubblica amministrazione all'Università. Sarà possibile iscriversi all'anno accademico, quindi 21-22, proprio in questo periodo. Alle carriere, alle professionalità dei componenti della pubblica amministrazione sarà riconosciuto in qualche modo una parte del percorso formativo che consentirà loro quindi di partire in maniera adeguata. C'è un'importante riduzione sulla tassa di iscrizione che ci è sembrato un motivo opportuno per favorire questa opportunità che il ministro Brunetta ci ha messo a disposizione. L'Associazione di Volontariato Il Girasole di Pesco Lanciano torna a sposare la causa della ricerca portando in piazza le arance della salute AIRC. I volontari domani mattina, sabato 29 gennaio, dalle ore 9, allestiranno uno stand nell'area antistante della farmacia dei Pentri a Isernia promuovendo una vendita solidale che andrà avanti fino a esorimento scorte. Con una donazione di 10 euro si potrà acquistare la reticella da 2,5 kg di arance rosse coltivata in Italia e per chi vorrà fare il pieno di gusto sarà disponibile anche il vasetto da 500 g di miele biologico di arancio. Insomma con una iniezione di vitamina C si potrà donare un'attenzione al proprio benessere e al contempo sostenere ricerca e prevenzione dando speranza a chi combatte contro delle patologie gravi. L'Associazione Il Girasole promuoverà la vendita delle arance della salute anche a Pesco Lanciano. Bene, e ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il nostro meteo. Previsioni del tempo per sabato 29 gennaio sul Molise nuvolosità irregolare al mattino maggiormente soleggiata la seconda parte della giornata venti moderati mare molto mosso queste le temperature nel dettaglio campo basso minima 0 massima 7 Isernia minima 1 massima 10 Termoli minima 8 massima 12 Venafro minima 2 massima 11 gradi E' tutto per questa edizione linea alla regia consigli per gli acquisti tra pochissimo la pagina sportiva restate con noi Lo sport iniziamo dal calcio di Lega Pro con il campo basso che lavora in vista dell'impegno di domenica ad Andrea domani mattina in programma la rifinitura nel quartier generale di Vinchiaturo con le ultime indicazioni sull'avversario ma anche le ultime indicazioni sulla formazione che scenderà in campo mister Cudini potrà contare sulla migliore formazione potrebbe giocare dall'inizio l'ultimo acquisto Mercai staremo a vedere quali saranno le scelte dell'allenatore una gara fondamentale quella di domenica in Puglia infatti c'è in palio un pezzo di salvezza sempre calcio ma scendiamo nel torneo di serie di Vasto Girardi domenica in campo a Castelfidardo come reagirà la squadra gialloblu dopo oltre 20 giorni di stop sentite C'è grande curiosità nel vedere all'opera il Vasto Girardi dopo oltre 20 giorni senza partiti ufficiali l'ultimo match disputato e quello del 5 gennaio il fortunato recupero con il Trastevere vinto partendo dal risultato di 1 a 0 e dal minuto 33 da allora solo allenamenti a causa del peggioramento della pandemia che ha imposto uno stop generale e poi il rinvio dell'incontro con il Castelnuovo-Vomano la squadra sta molto bene riferisce il direttore generale Antonio Crudele sempre presente nel quartiere generale di Fornelli il mister ha lavorato non solo sull'aspetto tecnico e tattico ma anche soprattutto su quello mentale non giochiamo da un po' e si sa dopo una lunga pausa le incognite sono tante come reagirà il Vasto Girardi? Riuscirà a dare continuità alle tre vittorie casalinghe consecutive che hanno permesso di scalare la classifica e di portarsi a ridosso dei play-off? Domande che avranno una risposta domenica pomeriggio quando gli altomolisani saranno in scena sul campo del Castelfidardo avversario da temere e soprattutto da non sottovalutare mister Prosperi potrà contare sulla migliore formazione durante la sgambatura di ieri il tecnico ha provato uomini e schemi scalpita l'attaccante Prado uno degli ultimi arrivati sta bene fisicamente e spera di trovare spazio dall'inizio o più probabilmente in corso d'opera torneo di promozione vediamo il programma completo della sedicesima giornata ci sono tre gare e tre anticipi Guardia Alfiera-Virtus-Gioese anticipi di domani con fischio d'inizio alle 15 poi Ripa-Limosani-Polis-Petacciato e Termoli 2016-Juvenes-Rinviata-Trivento-Donkeys-Agnone gli altri match si disputeranno invece regolarmente domenica pomeriggio lasciamo il calcio occupiamoci di palla a canestro di serie A1 femminile 18esima giornata Moncalieri-San Martino-Lupari è la gara odierna poi domani tre gare quelle tra Bruni-Schio e Faenza-Costa-Masnaga gli altri match si disputeranno invece domenica e tra questi match c'è anche la gara tra Lucca e Magnolia Campobasso con palla a due alle ore 18 lasciamo il basket occupiamoci ora di Futsal Futsal di serie A2 grande soddisfazione in casa Cus Molise per il raggiungimento della Coppa Italia queste le impressioni del tecnico Deiros Blu Marco Sanginario avvicinato da Francesco Presutti complimenti davvero una bella vittoria e siete riusciti nel finale Marco a mantenere i nervi saldi beh sì è stato un finale veramente coincitato peccato perché davanti a una bella cornice di pubblico credo sia stato veramente l'unica vera nota stonata i pala unimol nervosismi del genere non si erano mai visti e spero non si ripeteranno più perché oggi abbiamo vinto sul campo però resta un po' di amare in bocca per quello che è accaduto in realtà non è che è accaduto chissà cosa però non siamo abituati a queste scene diciamo così certo poi nel calcio a 5 insomma non accadono tanto spesso dicevamo bella vittoria sofferta gara molto equilibrata e c'è la Coppa Italia beh sì un traguardo per noi importante in un girone che sapevamo essere difficilissimo raggiungere questo obiettivo credo che sia per noi veramente il giusto coronamento a tanti sacrifici che sono partiti da agosto dalla preparazione di agosto abbiamo fatto un'ottima gara credo non brillante come le due precedenti dove abbiamo raccorto 0 punti giovedì in un'intervista con l'amico Salio l'avevo detto che preferivo non un gioco spumeggiante ma forse 3 punti e così è stato ho sentito Marco nel primo tempo dire siamo alla metà e già abbiamo 3 falli poi nel secondo tempo si sono un po' ribaltate le cose beh sì tra il primo e il secondo tempo avevo parlato con i ragazzi dicendo che avevo visto un po' troppo nervosismo ma nervosismo non è la parola esatta eravamo un po' contratti, eravamo paura di vincere veniamo da due sconvitte quindi avevamo paura di subire pensando invece di far gioco il secondo tempo insomma li ho visti molto meglio è chiaro che è un gioco che è fatto di episodi questa volta hanno girato dalla porta nostra però dobbiamo riconoscere anche il merito dell'avversario onestamente merita la classifica che hanno ora la pausa servirà per ricaricare anche mentalmente beh sì specialmente che abbiamo giocato venerdì col Benevento, oggi è mercoledì sulle gambe io credo che si è vista un po' di sofferenza quindi la sosta viene veramente al momento giusto per ricaricare un po' le batterie perché avremo due partite assolutamente proibitive sulla carta complicate, Sala e poi Pomezia però credo che avremo il tempo per organizzarci al meglio scendiamo nel torneo di serie B quindicesima giornata in programma domani giocano tra le Muramiche la Chaminade contro Diaz Bisceie e anche lo Sporting Benafro con Palo del Colle ecco qui la giornata completa la quindicesima del torneo di serie B il raggruppamento G come avete visto dalla grafica giocano in casa Sporting e Chaminade vediamo con quali prospettive con quale ambizione la vigilia nel servizio di Vincenzo Ciccone ritrovare il successo il comune imperativo categorico per le due molisane impegnate nel torneo di futsal di serie B nell'ambito del girone G in quella che sarà l'ultima uscita del mese di gennaio per entrambe lo Sporting Benafro scottato dagli ultimi due stop tra la fine del girone dell'andata e l'inizio del girone di ritorno riabbraccia dopo oltre un mese il parquet amico del Palapede Montana per affrontare probabilmente la squadra più in forma del momento quel palo del colle che ha ottenuto 24 punti nelle ultime 10 uscite e che all'andata la spuntò negli ultimi secondi di una gara fino a quel momento sullo 0-0 allo Sturzo invece con un fardello di ben 8 sconfitte consecutive e l'ingrato ruolo di fanalino di coda la Chaminade cercherà di salire la china affrontando un Bisceglie che nel 2022 ha già ottenuto 4 punti migliorando e non poco la propria classifica su entrambi i match calcio di inizio previsto per le ore 16 allo Sturzo a dirigere la contesa saranno il Capitolino pubblico di Roma 1 ed il Termolese Crincoli con un cronometrista l'altro basso molisano Gizzi due di nocera inferiore invece a Venafro con Bartoli e Califano e quale cronometrista il Campobassano Campanella chiudiamo con la pallacanestro con la pallacanestro di C Gold undicesima giornata in grafica gli incontri giocano domenica l'Air Termoli a Pescara e la New Fortitudo Isernia in casa contro l'Aquilano gli anticipi invece sono quelli tra Chieti e Pescara Basket Lanciano e Basto Basket Bene, è tutto anche con la pagina sportiva grazie per averci scelto buona continuazione con la nostra programmazione arrivederci